Due nuovi arresti nelle indagini che la questura di Grosseto sta portando avanti sull'omicidio di Natale avvenuto la sera del 23 dicembre in Via della Pace a Grosseto. La squadra mobile stamani ha arrestato due uomini, si tratta di un senegalese di 39 anni conosciuto come Bamba e residente in provincia di Como e un cittadino italiano di origine colombiana, trentenne, residente a Brescia. I due sono stati arrestati con la collaborazione delle squadre mobili di Como e Brescia su ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ancora ha ricercato un altro senegalese. Ricordiamo che quella sera del 23 dicembre 2019 venne ucciso un senegalese di 33 anni e un altro di 41 rimase ferito al collo. Le indagini avevano portato ad acquisire indizi contro un dominicano di 29 anni. Le vittime erano andate da lui per comprare una grossa quantità di cocaina, ma avevano portato con sé soldi in parte falsi. Erano riusciti a prendere la droga e a darsi alla fuga, ma il dominicano li aveva inseguiti sparandoli contro. L'uomo venne poi arrestato in Francia. Le indagini hanno permesso di identificare i complici del senegalese morto e di quello ferito. Si tratta dell'intermediario della compravendita, il senegalese appunto conosciuto come Bamba. Era stato lui a contattare il dominicano residente a Grosseto per la vendita di 500 grammi di cocaina. L'altro complice è il colombiano di origine italiana, proprietario della Mercedes utilizzata per arrivare a Grosseto.